Ciao a tutti, benvenute e benvenuti nel mio canale. Io sono Ilaria e qui vi racconto casi true crime, ma a volte vi parlo anche di altro. Oggi ad esempio vi voglio parlare di Carla Homolka e Paul Bernardo, i Barbie e Ken killer. Prima di cominciare il video però vi consiglio di iscrivervi al mio canale per non perdervi nessun caso e qui sotto vi lascio i vari link ai miei social. Inoltre vorrei scusarmi per la lunga assenza ma ho partecipato a un progetto Erasmus che mi ha vista impegnata per un mese in Grecia e quindi non ho potuto fare video. Comunque ora possiamo cominciare. Da qualche parte nel Canada degli anni 80 una coppia è responsabile di tre omicidi e numerosi studi. Vi sto parlando di Carla Homolka e Paul Bernardo, chiamati anche coppia killer o Barbie e Ken killer. L'amore li ha resi uniti e complici in tutti i sensi e Carla era disposta a tutto per l'amore del suo ricco e sofisticato marito. Ma chi era effettivamente questo marito? Paul Bernardo nasce in una famiglia abbastanza tormentata dove la madre Marilyn, costretta ad un matrimonio combinato, sposa un uomo benestante da cui avrà in primo luogo due figli, un maschio e una femmina. L'uomo è però violento, picchia la moglie e picchia i figli e quindi la madre di Paul esausta decide di scappare e andare con un altro uomo da cui poi nascerà Paul. Il marito di Marilyn però riconosce il figlio illegittimo e qui le sue follie aumentano. Stupra la figlia, corteggia le ragazzine, addirittura gira la sera nei quartieri e spia le donne dalle finestre. Marilyn invece cade in depressione, diventa esageratamente obesa e si rifugia in un mondo tutto suo. Paul in realtà fino ai 16 anni cresce bene, un ragazzo allegro, spensierato. Proprio fino ai 16 anni però, quando la madre decide di rivelargli la vera identità del padre che farà nascere in lui un odio smisurato per i suoi genitori e per le donne. Paul infatti una volta all'università picchia, omilia, sottomette e scopra le sue partner. Arriva il 1987 e Paul raggiunta la laurea, trova lavoro come contabile. Questo è anche l'anno in cui incontrerà la donna della sua vita, Carla Omolka. I due si innamorano subito e si intrattengono in alcuni giochi erotici abbastanza sadici. Infatti Carla avrebbe dovuto fingere di essere la vittima di uno stupratore e Paul l'avrebbe quindi ammanettata e violentata nonostante le sue preghiere. Nel 1988 le vittime di Paul sono già tredici. Carla sapeva tutto ma preferiva tacere e incoraggiare il ragazzo. Però Carla aveva un unico difetto secondo Paul, non era più vergine. Quindi Paul si sentì in diritto di chiedere in risarcimento la verginità della sorella di cinque anni più piccola di Carla, Tamio Molka. Carla quindi comincia a progettare lo stupro, va nella clinica per animali in cui lavorava, ruba dei sedativi, li testa sugli animali per vederne l'effetto e poi comincia ad esercitarsi ad usare la fotocamera che sarebbe servita a registrare lo stupro. Arriva quindi la serata della deflorazione di Tammy. Nella sua cena viene messo del sedativo così che Tammy si possa addormentare sul divano e mentre tutta la famiglia dorme Carla tiene dell'anestetico sul volto di Tammy così che Paul possa stuprare. Improvvisamente però Tammy si mette a vomitare, forse per un'overdose di medicinali, e inizia a soffocarsi con il suo vomito. I tentativi di Carla di aiutare Tammy sono inutili e i medici la dichiarano morte accidentale. Paul però si arrabbia con Carla, si arrabbia perché ha fatto morire il suo giocattolo sessuale ed esige una sostituta. Ironia della sorte, Carla conosce una ragazza che assomiglia molto a Tammy e la invita a casa come regalo di nozze per Paul. Anche qui la ragazza viene anestetizzata e poi stuperta prima da Carla e poi da Paul, solo che lei il giorno dopo non si ricorderà più nulla. Nel 1991, due settimane prima del matrimonio, Paul incontra Leslie, una ragazza di 14 anni che proprio quel giorno stava uscendo con la promessa di tornare a casa verso le 11. Sarebbe uscita con dei suoi amici. Quando al posto delle 11 Leslie stava rincasando alle 2 di mattino, incontra proprio Paul, che la invita a fumare una sigaretta in macchina per poi minacciarla e portarla a casa, dove la sta aspettando Carla. La porta nell'appartamento, le benda agli occhi e tra le sue urle le canzoni di David Bowie e Bob Marley inizia a sadomizzarla. Lo sopro fu nuovamente filmato finché Paul non decise di drogarla e strangolarla con un cavo elettrico. Il giorno dopo smembra il corpo di Leslie con una sega circolare, mescola i vari pezzi del corpo nel cemento e getta il tutto in un lago. Mentre il 29 giugno Barbie e Ken si sposano, una coppia scopre i pezzi di cemento nel lago. Quindi la polizia riunisce tutti i pezzi del cadavere e scopre che si tratta di Leslie. Il 16 aprile del 1992 Barbie e Ken trovano la loro terza e ultima vittima. Si tratta di una quindicenne di nome Kristen. Carla uscì dalla sua auto con una mappa in mano e fingendosi di essere persa mentre chiese informazioni alla quindicenne, le puntò un coltello addosso e la costrinse a salire in macchina, dove poi la portò a casa e Paul la violenta. Kristen viene umiliata a lungo e ha la pessima idea di collaborare con i due ragazzi convinta che la lasceranno vivere. Tre giorni dopo però i due la strangolano con un cappio. Il cadavere fu spogliato e buttato ancora intero in una fossa, dove verrà trovato dalla polizia alcuni giorni dopo. Il cadavere di Kristen rimane in acqua per circa sei mesi, cancellando così ogni possibile evidenza delle violenze subite. Quindi la polizia pensa e dice che Kristen è annegata mentre era ubriaca. Intorno al Natale del 1987 una vittima fornisce una descrizione molto dettagliata del suo aggressore. Un identikit perfettamente somigliante a Paul, però la polizia non lo conosce e non farà pubblicare l'identikit alla stampa. Nemmeno quando emerge che lo stupratore ha la stessa auto di Paul, la polizia decide di farsi avanti. Dopo un po' però iniziano a pensare che forse l'aggressore sia sempre lo stesso, quindi decidono di far pubblicare l'identikit aggiungendo una ricompensa di 150.000 dollari. La ricompensa invece di facilitare le indagini le complica notevolmente perché il numero di segnalazioni è veramente troppo alto e il numero di agenti non può ricoprirle tutte. Passa qualche tempo e un investigatore fa analizzare lo sperma del violentatore. Ci sono 230 sospetti, tra cui anche Paul, ma solo il sangue di 5 di loro coincide con lo sperma e ovviamente c'è anche Paul come sospettato. Evidentemente la polizia non potrà mai vantarsi di essere la più intelligente, poiché nonostante il cerchio si stia restringendo, il controesame viene rimandato all'aprile del 1992 solo perché lo stupratore ha smesso di colpire. Dopo la morte di Kristen, il governo decide di organizzare una task force. Proprio in occasione del suo rapimento, una testimone riesce a vedere la targa dell'auto del rapitore. Indovinate un po', coincide perfettamente con l'auto di Paul. Gli agenti si decidono finalmente di interrogarlo. Paul però risulta educato, cooperativo e molto intelligente. Addirittura racconta Divertito che, per via della somiglianza con lo stupratore, è già stato indagato una volta. Gli agenti quindi gli credono, si scusano e se ne vanno. Arriva il 1992 e viene preso il sangue dei cinque sospettati. Ma la polizia ovviamente ne combina un'altra delle sue, quindi l'esame verrà fatto nel 1993. Quasi un anno per dare un volto allo stupratore, il volto di Paul Bernardo. Il detective decide di mettere Paul sotto stretta sorveglianza, quindi ora Paul è controllato e solo, poiché dopo le numerose violenze ha iniziato a picchiare Carla e i genitori della ragazza, dopo averla vista con due occhi neri, la costringono ad allontanarsi dal ragazzo e trasferirsi da loro. A questo punto gli agenti cominciano a fare pressione anche su Carla, che però ormai è sotto effetto di alcol e tranquillizzanti e quindi non demorde. Riuscirà a confessare tutto solo a suo zio. A metà febbraio 1993 Paul viene arrestato e viene accusato sia come stupratore che come assassino. Qualche giorno dopo viene ispezionata la casa della coppia e vengono ritrovati numerosi materiali. Viene ritrovato anche un diario in cui Paul segnava l'orario e cosa aveva fatto alla vittima nei minimi dettagli. Ci sono dei filmati che ritraggono anche Carla, così il tribunale le propone 12 anni di carcere e tre in caso di buona condotta, solo se lei avesse raccontato tutto quello che sapeva. Le perizie psichiatriche su Carla dicono che lei in realtà sia solo una vittima di Paul e quindi le vengono confermati i 12 anni di carcere, però dopo tre anni non viene rispettato il patto perché Carla viene considerata ancora pericolosa per la società e non viene rilasciata. Il processo a Paul invece partì dopo due anni dal suo arresto nel 1995, poiché Paul prima di finire in prigione chiese al suo avvocato di nascondere tutti i filmati incriminanti. Gli investigatori ci misero due anni a rintracciare i filmati, fino a quando l'avvocato, in preda ad una crisi di coscienza, li riconsegnò tutti e ovviamente perse anche il lavoro. Tramite il processo si riconobbe Carla come responsabile diretta dell'omicidio di sua sorella Tammy. Questo la spinse a scrivere una lettera ai suoi genitori, però per il tribunale c'è solo un responsabile ed è Paul che viene condannato all'ergastolo. Il video finisce qui, fatemi sapere nei commenti se eravate già a conoscenza di questo caso e cosa ne pensate. Vi aspetto al mio prossimo video!